Sono state approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pesca e acquacoltura, 5 misure finanziate attraverso il Fondo per la politica marittima e della pesca dell'Unione Europea, per un totale di 942.000 euro. Per l'ammodernamento delle flotte da pesca sono state approvate misure relative a salute e sicurezza, per oltre 100.000 euro, efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici, per 150.000 euro, più una da circa 61.000 euro per la sostituzione dei motori. Per l'acquacoltura sono state invece approvate le misure relative a investimenti produttivi per 610.000 euro e per la promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile per altri 20.000 euro. Le domande per accedere ai fondi possono essere inviate entro le 13 del 30 giugno. I bandi con tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito dell'Agricoltura regionale. Grazie. Grazie. Grazie.